la devozione alla madonna di padre pio di sor maria eucaristica pia lopez amate la madonna e fatela amare sono le parole testamento che padre pio ha lasciato ai suoi figli prima di morire e che esprimono tutta la profondità della sua devozione e del suo amore alla cara mammina come egli amava chiamata di padre pio la devozione della sua vita di frate e di sacerdote se è vero come egli stesso scrive che era divorato dall'amore di dio e dei fratelli è altrettanto vero che padre pio si sentiva tutto infiammato di un amore ardentissimo per la madre di gesù in una delle tante estasi avute a venafro nel 1911 e riportate da padre agostino nel suo diario padre pio vedendo la madonna con grande trasporto filiale esclamò senti mammina io ti voglio bene più di tutte le creature della terra e del cielo dopo gesù si intende ma ti voglio bene uno dei suoi più devoti figli spirituali si esprime così riguardo alla presenza di maria santissima nella vita del santo cappuccino padre pio è tutto frutto di grazia mariana infatti la sua vita inizia si svolge e finisce sotto gli occhi della madonna nasce nel bel mese di maggio è battezzato nella chiesa di santa maria degli angeli piccolo pastorello da una parte agli occhi rivolti al greggio da custodire e dall'altra il rosario in mano e la mente indirizzata alla santissima vergine chiamato alla vita consacrata è la madre di gesù che lo incoraggia e gli dà forza per superare il doloroso martirio del distacco dai suoi cari giovane frate a pietrelcina la madonna della libera diventa la confidente delle sue grandi sofferenze fisiche e spirituali ordinato sacerdote celebra la sua prima messa ai piedi della sua madunnella trascorre più di 50 anni a san giovanni rotondo sotto lo sguardo dolce della madonna delle grazie testimone della sua crocifissione e della sua quotidiana emolazione fino agli ultimi istanti di vita che si concludono con la corona tra le mani e i dolci nomi di gesù e maria sulle labbra si tratta di un filone mariano che ha tracciato il cammino di santità di un uomo che viveva di maria e con maria nelle pagine dell'epistolario sono ricorrenti i titoli con cui affettuosamente e figlialmente padre pio amava chiamare la madonna la mia mammina la mia cara mammina la celeste mammina la diletta madre la tenerissima madre la dilettissima madre la carissima madre mia la bellissima mamma celeste la comune nostra madre e pronunciava questi titoli con accenti che assumevano i connotati inconfondibili della tenerezza e della confidenza filiale il suo rapporto con lei era unico meraviglioso da cuore a cuore da figlio a madre l'amava e si rammaricava di non poterla amare come la madre di dio meritava vorrei poterla amare quanto merita confidava ad una figlia spirituale ma ricordati che tutti i santi gli angeli insieme non possono degnamente amare e lodare la madre di dio avrebbe voluto che tutti la massero come sapeva amarla lui tanto da scrivere vorrei avere una voce si forte per invitare i peccatori di tutto il mondo ad amare la madonna ma poiché ciò non è il mio potere ho pregato e pregherò il mio angiolino a compiere per me quest'ufficio epistolario primo pagina 277 questo grande amore lo faceva estasiare dinanzi ad un'immagine della madonna lo faceva trasalire di gioia all'approssimarsi di una festa mariana per non parlare poi del giubilo che provava quando ritornava il bel mese di maggio da lui atteso ogni anno con grande e gioiosa ansia ecco finalmente ritornato il mese della bella mammina così scriveva una volta a padre agostino all'inizio del mese di maggio del 1913 il mese di maggio era per padre pio il mese di grazie il mese che predica bene le dolcezze e la bellezza di maria e si prodigava per dare a questa tenera madre il suo affetto e per appartenerle sempre di più tanto da espropriarsi della sua volontà per essere come gesù vero figlio di maria e in questo mese la madonna da parte sua faceva sfoggio della sua bontà delle sue più delicate attenzioni verso questo amato figlio povera mammina quanto mi vuole bene scriveva a padre agostino l'ho constatato di bel nuovo allo spuntare di questo bel mese con quanta cura mi ha accompagnato l'altare questa mattina mi è sembrato che ella non avesse altro a pensare se non a me solo con riempirmi il cuore tutto di santi affetti queste cure materne di maria assumevano delle sfumature delicatissime che sono registrate nella lettera del 6 maggio 1913 a padre agostino questa cara mammina seguita a prestarmi premurosamente le sue materne cure specialmente in questo mese le di lei cure verso di me toccano la ricercatezza mi sento stretto e legato al figlio per mezzo di questa madre senza neanche vedere le catene che tanto stretto mi tengono padre pio ha imparato conoscere e amare la madonna come mamma non dai libri e dai discorsi ma sperimentando nella sua vita giorno per giorno la sua presenza e guida materna la sua devozione non era certamente sentimentale o passeggera ma poggiava su solide fondamenta egli contemplava maria nella rivelazione biblica e nella storia della salvezza constatando che con la sua mediazione materna di grazie è via regale per arrivare al figlio il mese di maggio olezzante di rose e radioso di luce era per padre pio portatore di gioie e di grazie e chi di noi non ha bisogno di grazie non perdiamo questa occasione facciamoci aiutare da padre pio per crescere nel nostro amore alla madonna grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti